Management casa dell'anzino fragile, strumenti e tecniche di gestione socio-sanitarie. Si tratta del seminario di studi che si svolge oggi e domani nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. All'evento formativo ha partecipato Ferdinando Schiavo, neurologo ed autore del libro Malati per forza. Adesso devo scrivere un altro, ciabatte rosse, perché si parla tanto delle scarpette rosse, le donne uccise da questi imbecilli di uomini, però ci sono tante donne anziane che muoiono a casa, ma nelle case in ospedale e in case di riposo, sono i dati del Ministero della Salute, parlano di circa 90 persone al giorno che muoiono in ospedale. Io tratto le malattie da farmaci, ma non di tanti, a volte può bastare un farmaco solo, un farmaco anche normale di quelli che usiamo. Esempio, il Plasil è un farmaco che può far bene, ma non puoi nell'anziano prolungarlo più di tanto, può dare parkinsonismo, ad esempio. I lavori questa mattina sono stati moderati da Vincenzo Cascio. L'anziano fragile è un nuovo fenomeno emergente che necessita di un intervento specifico e soprattutto della gestione su diversi ambiti. Essendo un fenomeno complesso, richiede una gestione su diversi livelli e diversi ambiti. E quali sono questi ambiti e livelli? Gli ambiti e livelli riguardano la parte sanitaria, sociale, socio-sanitaria e interventi anche di comunità. Ma non sarebbe importante che invece l'anziano venisse accolto dalla propria famiglia? La famiglia può essere una risorsa, ma non sempre è così. Il seminario di studi per assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori ed operatori sociali è stato promosso dalla Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. La Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio ha a cuore quelle che sono le tematiche sociali, quindi oggi in particolare su questo tema sull'anziano fragile sicuramente. Ma le problematiche sociali sono di varia natura. Probabilmente in futuro, in breve termine, verrà messo in atto un altro seminario che ha lo scopo di trattare le patologie da dipendenze, che è un tema molto scottante visto che le dipendenze sono di varia natura, tra cui quella del gioco che appunto è generalizzata. Comunque, sottostante a tutto, è la volontà della Fondazione di permettere di dare agli operatori sociali gli strumenti per migliorarsi in continuazione e metterli a disposizione della società.